Non ci sarà a Venezia il Carnevale 2021, improponibile per quest'anno felteggiare, ancora in piena pandemia, con gli ospedali veneti sotto pressione, migliaia di morti e centinaia di persone che stanno lottando contro il Covid. Una scelta in primo luogo di sensibilità e rispetto degli organizzatori verso coloro che stanno soffrendo e poi motivata anche dalla priorità assoluta di evitare il rischio di assembramenti e di tutto ciò che possa far circolare il virus. Da queste considerazioni sono partite l'amministrazione comunale di Venezia e la società vera per arrivare alla decisione dolorosa ma inevitabile di cancellare l'evento. Del resto, questa volta, nemmeno il calendario ha giocato un ruolo amico. La Kermess si sarebbe dovuta aprire troppo presto, tra meno di un mese, sabato 30 gennaio, e concludersi con il clou del martedì grasso il 16 febbraio. La decisione della rinuncia verrà comunicata ufficialmente nei prossimi giorni, ma la scelta ormai è fatta. Cancellate dunque tutte le manifestazioni in presenza alla quale la felta ci ha abituati, dal corteo delle Marie al volo dell'Angelo, dal campanile di San Marco, dalla felta sull'acqua a Canareggio alla pacifica invasione di maschere e coriandoli tra cagli e campielli. Ad impiazzare tutto ciò ci potrebbero essere forse un paio di eventi in streaming, ma per le manifestazioni di carnevale in presenza, tutto rimandato al 2022. Proprio il virus interruppe bruscamente il carnevale anche l'edizione 2020, la domenica, per la notizia dei primi contagi a Venezia, arrivata proprio alla vigilia del clou di martedì grasso. Per le manifestazioni in presenza, Venezia guarda Colte, ci si sta concentrando sull'organizzazione per i 1600 anni di Venezia, con un carterone che dovrebbe aprirsi il 25 marzo e durare un intero anno, e sul salone nautico a primavera.